Aggiungi, è un po' la mia famiglia insomma, è mio padre, io da bambino che l'ho visto, l'ho visto a Londra con lui, ho amici che oggi lavorano con me e che una volta lavoravano con mio papà, è una sorta di emozionante storia di vita che prosegue, quindi al di là di tutto però è una bellissima, non so nemmeno come si può dire, una saga, però nel senso buono del termine. Grazie.